Nell'ultimo trimestre 2019 la produzione industriale aumenta del più 0,8%, in media d'anno il risultato è più 1,4%, meno bene il settore metalmeccanico, più 0,2%. Andamenti diversificati per le varie classi dimensionali, grandi imprese e micro sono quelle con la dinamica più positiva. Variazione del portafoglio ordini negativa, solo per i servizi il risultato risulta positivo. Per il 23,3% il portafoglio ordini non arriva a un mese, per il 27,2% supera i tre mesi. Variazione dell'occupazione al più 1% è positiva per tutti i settori, per quanto riguarda le dimensioni aziendali sono quelle più grandi a registrare i risultati più positivi. Stagnazione delle vendite in Italia che crescono solo per il settore dei servizi. Il più 0,4% delle vendite all'estero è risultato di un più 1,2% nel mercato UE, meno 0,5% extra UE. Per la media delle imprese in corso d'anno è andata migliorando il rapporto con il credito. Un'impresa su 5 continua a lamentare pagamenti in ritardo, i prezzi delle materie prime sono in aumento per il 35%. Le previsioni per l'attività nel primo semestre 2020 sono migliori per il settore dei servizi. Ordini interni in aumento per il 19,2%, dall'estero per il 31,6%. Occupazioni in aumento per un'impresa su 4, solo per il 15,3% in aumento gli investimenti. Lo stato di salute dell'economia italiana è giudicato positivo solo dal 2,9%, in miglioramento dal 6,6% ma in peggioramento quasi dalla metà degli intervistati.